C'è la partenza migliore dell'Atalanta degli ultimi anni, oltretutto non dimentichiamoci che l'Atalanta ha fatto sempre grandissimi campionati nelle stagioni precedenti e si sta preparando già a fare anche quest'anno una stagione di alto livello. Ha giocatori bravi, ha un'organizzazione di gioco che la si conosce e mette in difficoltà chiunque. È stimolante per tanti motivi giocare contro l'Atalanta perché ha un'idea di calcio diversa da noi, perché ha un sistema di gioco diverso dal nostro, perché è la bestia nera del Sassuolo e perché è una squadra di alto livello. Quindi tutti questi ingredienti fanno sì che la partita sia molto stimolante per noi. Credo che sarà una partita diversa rispetto all'ultima giocata contro l'Atalanta nel nostro stadio. Vuoi perché l'Atalanta è cambiata, non nel sistema di gioco, non nell'idea di gioco, ma in alcuni interpreti. Ogni momento nel quale si affrontano le squadre è diverso, quindi bisogna contestualizzare ogni momento. Certo è che per noi è già stato un successo aver raggiunto un risultato positivo contro l'Atalanta perché sappiamo che per attitudini ci mette in difficoltà. Allo stesso tempo vogliamo replicare, non possiamo accontentarci di quello che abbiamo fatto in una partita precedente contro l'Atalanta perché non conta niente. Sappiamo che ad oggi l'Atalanta ha qualcosa in più di noi, però sappiamo che abbiamo le possibilità, i mezzi e anche le attitudini per mettere in difficoltà perché ci stiamo lavorando da tempo, è il nostro crucio da un po' giocare contro squadre che hanno un'idea di gioco diversa dalla nostra e ci stiamo lavorando e speriamo di riportare in campo quello che vorremmo fare. Siamo mediamente una squadra giovane o comunque in alcuni interpreti, soprattutto davanti abbiamo giocatori giovani e questa è la fortuna di avere giocatori giovani che hanno margine di miglioramento, che hanno voglia di migliorarsi e che possono lavorare per migliorare. È normale che per far gol bisogna calciare, in qualche modo bisogna far arrivare la palla in porta, bisogna far parare pure. Io dico bisogna sporcare i guanti al portiere, poi se si riesce già a far sporcare i guanti al portiere perché spesso non si becca allo specchio della porta e dopo bisogna lavorare perché il portiere non ci arrivi. Però intanto dobbiamo lavorare per arrivare lì, per mettere i nostri giocatori nelle condizioni di guardare la porta avversaria da vicino. E non è facile contro l'Atalanta, non è per niente facile. In seconda battuta dobbiamo cercare di essere più bravi se riusciamo a mettere i nostri giocatori offensivi nelle condizioni di calciare. Ad oggi ci siamo riusciti a fasi alterne. Possiamo migliorare sia nel mettere i nostri giocatori offensivi nelle condizioni migliori ma recuperando anche alcuni giocatori offensivi. Sono convinto che questa cosa migliorerà e al tempo stesso migliorare le nostre finalizzazioni. È bello sentire parlare come possibilità di D'Andrea per dire perché due settimane fa nessuno l'avrebbe nominato. E questo vuol dire che Sassuolo sta lavorando bene. E questo vuol dire che a differenza di altri che dicono di credere nei giovani e poi non buttarli dentro vuol dire che allora stiamo costruendo bene. È normale che poi a tutti i giocatori bisogna dargli il tempo di crescere, di sbagliare. Fortunatamente i giocatori più bravi danno possibilità ai più giovani e magari che si devono formare di crescere, di sbagliare, di aspettarli. Posso anche dirlo con sicurezza che sia Domenico che Junior faranno parte dei giocatori a disposizione. Poi vediamo per quanto, come, dove, però sicuramente entrambi penso che ci saranno. Quindi io sono solo contento di rivedere in campo tutta la rosa poi, non solo i giocatori determinanti. Frattesi sta bene, si è allenato, ha avuto bisogno di un po' di recupero in più nel post partita, ma come del resto anche altri, perché contro l'Inter vuoi o non vuoi spendi un po' di più mentalmente e di conseguenza anche fisicamente. Davide è uno di questi, è un giocatore generoso, è un giocatore che aveva speso, però si è allenato normalmente nei giorni precedenti alla partita di domani e di conseguenza sarà a disposizione. Pippo sta facendo un percorso che è partito due anni fa purtroppo per lui e sta vedendo la luce. Fortunatamente, a dispetto dell'anno scorso, che dopo una partita giocata per metà con la primavera non è riuscito a dar continuità a questo, quest'anno è riuscito a giocare due partite 90 minuti e sta bene, sta molto bene, si sta allenando con la squadra da sempre, è un giocatore del Sassuolo, è normale che ad oggi io non lo ritenga ancora pronto, non è pronto per la prima squadra, però si sta allenando sempre al 100% e bene con i suoi compagni. Dopo due partite intere con la primavera, oltretutto fatte bene, una pareggiata e l'altra vinta, è stato molto positivo, di conseguenza si avvicina sempre di più a un ritorno alla condizione migliore.